... Ho detto che gli unici braccialetti che noi usiamo in Italia sono quelli che produce l'industria di gioielleria italiana che sono molto belli, gli altri in Italia non ci sono oggi, non ci saranno domani, non ci saranno neanche dopodomani credo che per loro lo dessero anche per scontato, così mi hanno detto che non c'è nessuno in vista, nessun uso di nessun genere di questo tipo di sistemi in Italia è vietato, è sbagliato e mi hanno presentato i nuovi investimenti che hanno pronti e noi siamo molto contenti di nuovi investimenti con un'attenzione che gli investimenti non possono rappresentare da soli un obiettivo ma devono essere investimenti che prevedono una qualità del lavoro e non solo una quantità del lavoro e su questo gli ho chiesto un'attenzione particolare ma credo che dopo vi daranno i ragguagli loro nuovi investimenti dove saranno a Turino? credo che su questo vi parleranno loro ed è giusto che lo faccia alla società interessante grazie grazie